Stiamo portando avanti i lavori per un intervento di manutenzione straordinaria, un intervento finanziato dalla regione toscana per un importo di circa 350 mila euro, per dare risposte a un territorio che dimostrava criticità importanti. Più volte si sono visti allegamenti, soprattutto nella zona della gruccia. Sta cambiando volto l'area attraversata dal tratto terminale del Borro al Quercio, in corrispondenza del punto di missione del Fosso Reale e prima della sua confluenza in Arno. Siamo in località La Gruccia, nel comune di San Giovanni Valdarno. Qui il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, dalla metà di luglio, ha avviato l'intervento di manutenzione straordinaria, finanziato con risorse messe a disposizione dalla regione toscana, con un'ordinanza commissariale emanata a seguito degli intensi eventi meteorologici del 3 novembre 2019, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica in una zona a rischio. Questo intervento in particolare consentirà di mettere in sicurezza l'ospedale del Valdarno e quindi rendere sicuro un punto estremamente sensibile di tutto il nostro territorio. L'intervento in questione ha visto mettersi all'opera professionisti del settore per coniugare la somma dell'intervento con le esigenze del territorio e trovare la selezione più adeguata per dare delle risposte efficienti. Questo è stato possibile farlo grazie anche a una grande collaborazione con il Genio Civile e la regione toscana, ma anche con il comune di San Giovanni. Sino ad oggi questa porzione del territorio, in occasione delle piene più importanti del fiume principale, è stata infatti soggetta a significativi fenomeni di rigurgito che gli argini insufficienti non riuscivano a contenere. Adesso i tecnici dell'ente hanno elaborato in accordo con il Genio Civile e Valdarno Superiore e il comune la soluzione progettuale che sta progressivamente prendendo forma. L'intervento consiste nella realizzazione di un'apparatoria attualmente in corso di lavorazione e c'è stata una prima fase che si è conclusa con la realizzazione della fondazione che consenterà poi successivamente di installare questa aparatoia che è un organo importante perché si parla di una struttura di 3 metri per 2 in metallo che è dimensionata per permettere il corretto deflusso minimo vitale, quindi rispetterà non solo la parte di mitigazione del rischio idraulico ma anche dal punto di vista ambientale consentirà il deflusso minimo per la salvaguarda di tutte le specie e dell'ambiente circostante.